Sorpresa, c'è un live! E' una sorpresa questa! Ho trovato il copricapo da sub di qualcuno di Dokkeni Non li posso indossare subito le robe, guarda Aspetta, c'ho i pacchettini Togli ad aprire, fai aprire i pacchettini Ho tenuto premio Io ho una skin di IQ, ho trovato E' un infradito come ciondolo universale Allora, ho i pacchettini premium Oh 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 Ma che merda è sto ciondolo San plas Ma tiki dentone Ma blu, che schifo Aveva un nuovo dorata Ma si possono... Ma che schifo Ma che schifo Ma si possono comprare solo con i soldi veri Ma il ciondolo infradito ho trovato Anche io ho trovato il ciondolo infradito Un uniforme di... Ma che cacchio Ma si trovano per forza quelle due robe allora No, è vero Shiba, 18 mesi, cazzo Shiba No, ho trovato tanto No, vedi, loro sono diversi con la tua robe blu Ma che buco di culo Hai trovato due cose viola io Prima facevano un caccare comunque Ma non ci sei tu per partecipar Mi invitarò a sbagliarlo Un complicato di IQ Beh, è un cappellino Un uniforme viola San Splash che... Non so cosa c'è di San e di Splash Eh, io c'ho la maschera da sub È San quello lì, è Splash Quello lì sì La giacchettina viola non è San È il giubbottino salvagente Ma non è vero, è normale Beh, usiamo IQ oggi, questa bella skin Facciamo modificare l'arma Questo Kamerupt che ho catturato Meglio l'AUG O le 5-5-2-commando Con chi? Con IQ IQ io uso la... Quella l'AUG L'AUG? Ok, mi seguite allora È l'arma che secondo me è un po' più... Allora, mirino Perché l'altra fa più danno Ma è più... Ma è meno cadente Per la chat metto l'ACOG Siamo un po' dei coglioni Per la canna metto... Cos'è? Il pesatore rompì il fiamma Trovato C'è il 5-5-2-commando Che fa un pelo più di danno Però c'hai... Molta meno cadente C'è molta C'hai meno cadente E metto il... No, non era qua Metto il ciondolo della ciabatta Dove sta? Eccolo qua Ma c'è una piccola hash Mica l'avevo visto io Cb hash elite Perché l'avevo visto? Sarà quella leggendaria Faccio un po' di rumore Ma no, mi è caduto Anche io Marco Bravo Ma che brutto colore Che brutto colore questo Oh ma io voglio giocare A questo gioco della fava E manca la professora Dove cagliagnè? Cagliagnè Cagliagnè Adesso mi sistemo le cose E cammina immagino Adesso metto l'ACOG Adesso metto l'ACOG Su ogni singola arma Ho lanciato non abbiamo più coglioni E poi perdo Con l'ACOG A me non mi va di usarla per ogni arma Invece che ha determinate armi Che hanno tanta cadenza Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Anche perché poi ti rincula Sei in un'altra mappa E' vero E' vero E' vero Vado senza milino No 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 ma va bene in un sacco di armi Vado sta milino Vado sta milino Vado sta milino Marco Allora Ronaldo alla Juve Finchè non annunciano l'ufficialità io non ci credo A caso a caso Nessuno sa però sommisso Quest'anno Lebron ai Lakers Sono Ronaldo alla Juve Tutto strano Tutto incasinato Queste stati Si si Proprio è vero Guarda Questo calciomercato Guarda io volevo tacconi e invece Tacchinati Marco Marco Culo Ehi 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 Riprendo Ela Io ti prendo Ela Io ti prendo Ela Però sei molto attento Che avevo un culo di merda Ela Pa 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 Ma i profondi slu erano gli italiani? Chi erano gli slu? Non mi ricordo più Cacchio Aldi Pa 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 No gli italiani non erano gli slu Gli slu non sono Gli slu erano gli slu Gli slu sono gli slu Gli slu sono quelli prima Ho scritto anche di un Marco agli Space Valley Come fate questa news? Cosa? Ho scritto anche di un Marco agli Space Valley Si 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 Abbiamo fatto questo cambio Si si Io lì e Tonno Io non lo volevo però No infatti C'è sempre si frega Eh vabbè Si perchè siamo uguali a quanto pare E' mio figlio Frank No ormai abbiamo deciso che Frank è mio figlio Ah l'ho deciso Non è che Dove Anche se visivamente sembra più grande lui di 6-7 anni Non ci mette la parete Beh? Beh? Ah Che imbarazzo C'è Francesca in chat ma io non la saluto Ehi ehi Ciao Frank Ho rinforzato il ruolo Cos'è questa cosa? Chi è questa cosa? Ho rotto il pallone Rinforzare pareti Stiamo ruggendo tutti quelli Ah carina Yeah Trullo strullo Trullo strullo Trullo strullo Eh non trullo strullo Cazzo Ma che c'è c'è un buco lì? Bastardi Ehm 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 Che cazzo È un robottino È un robottino L'ho rotto Ma occhio a mano che c'è un buco lì In realtà è probabilmente Ah guarda questa parte Un'idea Vediamo un poco Mi hanno spaccato Mi load è poco Fatemi usare le telecamere Ecco Vabbè? Eh speri ti posso dare una mano Giù in fondo qua No Posso dare una mano al massimo di ESO Vedete che montagna anche E vabbè mi hanno sultato Eh ma tu ho deciso Glad Ma dov'era Glad Dov'è vero? Ma si è sentito? T'ha ucciso Glad No 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 Andate non andate Stiamo dentro Devono entrare loro A parte che ti ho detto non l'ho visto C'è bisogno che lo vedi Se lo vedi muore Ma Blackboard ce la faceva Poi c'è Glad Ehm dovevo stare dentro Io da su non c'è nessuno No C'è credo che stiano entrando Ecco c'è uno qua Ragazzi Lì stiano entrando eh Manu guarda te lo scotto Vedi tu puoi seri per andare Sono tutti entrati Non è anche una Sì Buona Manu Secondo che si sta E' lì Cacchio Un punto rosso gigantesco Rosso E hai identificato quella che ti ha sparato nell'angolino Quello che mi ha sparato? Il sicuro Il più scherato alla fine Che ti hai nascosto Ehm c'era Ma stavo ricaricando Manu attento eh Quanti cadaveri Eh lo so Ehm C'ho passato dopo infatti Buongiorno Buongiorno Manu ti aspetta Eh c'è Glaz dalla parte opposta Dall'entrata opposta Ma Stronzo Marco Cosa? Stavi Telecamerizzando Eh no perché Volevo vedere se potevo Non uscire Dieter Lo sentitela qui ma Eh lo so Poi c'è fornuzione E' morto Manu E' dalle scale credo C'è Blackbird dalle scale Sinistra Dieter Dal bagno Invece Glad E' dall'esterno Mark Quella a destra Dietro di te Dieter Al sinistra Ho visto Ho visto Ho visto Ho visto C'è anche Sono in due Dai Cazzo non ti dà Blackbird non è morto Eh non tutti ti dà Blackbird non è morto mai Mai Però una sopra l'altro ero No Non vedo L'ha sparato ma non è Tutti quelli su un colpo No lo so Peccato peccato Cacchio veramente l'avevo preso tutto Ma non mi ha ucciso prima lui Mi hai sparato alto Semplicemente Eh ma Sì Non so perchè ha sparato così alto Vabbè Quell'anormalia è un po' brutta Ah Che dite? Una bella finca Una bella finca Una bella finca Volete preferite finca o l'altro O Io preferisco toucher Marco Prefendo toucher Ah si dai Quanto sfondamento C'era bisogno Di asce Si In realtà asce è utile più o meno sempre Io sono per il rateo di fuoco Ah due avete Ho visto che c'era anche Si devo cambiare il mirino Ma Per l'abilità Si ha fatto il rateo di fuoco Anche l'ho avuto di sempre E non l'ho più cambiato Ma anche io come le ultime linte E' roba C'è che sono sotto E' piano terra Arca troia E' niente Quale piano terra? Ma di sotto sono Basi Ma non c'è Eh ma perchè qua non c'è Scantinato Scantinato Non sono lì? Ah no non sono lì Eh no non sono lì Ma proprio il dove c'è l'ingresso principale Piano terra dove si? Piano terra dove si? Piano terra io pensavo allo scantinato Quale dei due ingressi principali? Eh l'altro diciamo Red Credo E dov'è Marco Red Eh c'è già abbiamo Red Non puoi andare Love E che non ho fatto i numeri di altissimo Eiei Ai eeee Amma riii силь parts E u Mm E Eh Ma che non è chi mi deve sparare il Gen Peże che è altissimo E non mi prende No dobbia solo ma si arriva ilGero Ma non è vero Come no Funziona Ma ormai non è funzionato No no dipende moro Adesso salti da per terra E da per terra dipende come No se salti da per terra non è possibile se Se senti da una ringhiera, se sei rialzato, si. Eh, è quello, dico, dipende dalla situazione. No, io dico che per terra non è possibile che non ti prendi. Però essa è qui. No, vedo lì il bucchettino di finestre. Infatti mi ha ucciso. Da dove, poi, che non c'è capito? Ah, c'è il buco, ma... Eh, ma l'ho colpito subito, ma non... Qua, eh? C'è gente. C'è uno con laser. Ok, ha distrutto un jammer. Tiro un drone. Ok, ottimo, vedete. Pazzo mura. Aspetta dalle spalle, io. Oh! Sei matto, Manu? Però stai qui. Qua c'è Tachank, eh? Ma c'è tanto... A destra, stai a te togliere a destra. E ne hai trovato? Perché? Per l'altro di là. C'è Valkyria. Tana, però! Ma non c'è un colpo. C'è Valkyria o non ho bussato la camera, io? Ma non sono io, ma non sono io. Scusa, Edge o è sopra, eh? Ah, che imbarazzo. Salve salve che arriva. Che individua? Non ci sono tre camere! C'era dentro le piante. Quello era un bicchiere, eh? Scusa. Ma non c'è, non c'è nessuno. Vai a cagare, vai! Mi fanno fatto male, poi! Cazzo grey pork! Puoi aiutare Mark? Eh. Edge o è sopra, in teoria. Non so se hai sceso. Scusa, c'è anche... Vedete l'obiettivo, vedete l'obiettivo? Vai! Ah, le spaspevo io! Guarda dietro, guarda dietro! Guarda dietro, guarda! Vado lì! Ma dai, l'avevo crivellato! Dai, l'avevo crivellato! Vabbè che Edge o c'ha l'armatura 3, eh, per carità. Ah... Eh, no, dovevo già a me io dovevo. Così tu dovevo... Madonna! Ma mia! Non c'è stato, non c'ho sottato! È stato bravo, eh! Ho fatto un'infiltrazione alla Splinter Cell io, distraendoli con... ...le cose per distruggere i gadget. Allora... Questa volta è il momento di... ...spargere Rosango! Eh, bravo! Eh, sì, sì, solito, sto guardando adesso. Edge o... Corazza 3. Edge o armatura 3, sì, mi pare. Si, ho appena guardato 3. A meno che non l'hanno patchato recentemente. No, 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 c'è proprio... Ah, puoi... Ma... Spotta, scusa, il drone di Echo? No. Beh, no, non è vero. No, non dipende da niente. Non spotta. Ti fa... Ti fa fare l'assist. Però se lo... Non ho l'acqua per bere io. Vedi, vedi che il bot te l'ha ricordato? Eh, ma tanto non ce l'ho. Eh, ma... C'è simbola. C'è simbola. C'è simbola. C'è simbola. C'è simbola. Questa volta devo fare... ...cosando. E levati dalle palle che non riesco a prendere uno. Ehm, io qui sono cammina, vado qui qua. Cos'è? Ah sì, ora spotta. Come spotta? C'è, gliel'hanno messo i due, come spotta? Adesso spotta. Ah, c'è spotta da... Dall'aggiornamento spotta. Allora... 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 Gli hanno messo anche un altro. Che lungono 10 secondi. E' da par che effettivamente non lo prenderà più quasi nessuno. Per provarlo. Eh, allora perché non potenzialo Tachanka? Dai, tu! E allora! Tachanka... Bastardo! Tanto gli ha... Fidi Gatto gli ha dato la cosa di Tachanka. Dicca altra, eh. Gli ha dato la... La pop di Tachanka. Perché... Gli dispiace che nessuno... Lo considera un vero giocattore. Perché hai spancato la finestra, lì, vabbè? Fai così, vedi? Sponkill. Ma poi non capite, eh? Ce l'ha? Eh, glielo usate sotto. Eh, io. L'ho usata io lì l'ultima qua. Dove? Qui. Fatemi... Vabbè! Dove li dati? No, erano fuori. Ho semplicemente... Ho semplicemente... Ho semplicemente... Ho semplicemente... Ho semplicemente... Prima la finestra. No, ho capito, ma... Stava già mirando lì. Quello è il problema. Te l'aspettavo, magari. Aia. Ehi, chi mi spara dietro? 10 di vita. È sempre lo stesso. Ho 10 di vita. Non ho più vita. Arriva la montagna, eh? Eh, ma siamo tutti decediti. Mi sto tenendo a bada con la torretta, sono qua dietro. Non è vero. Sono morto. No, qua dietro. Qua, dalle scale. Non so, ma... Sono tutte le finestre sfondate da noi. Il contenitore di biorischio in pausa. Pensate al nemico. Proteggetevi del contenitore di biorischio. È macchierato. Come è Henry Jekyll? Te lo scuso? Tento esco, ripenso. Tento esco, ripenso. Vabbè, ma... Porca puttana, è uscito! E stavo spando sola! E non ne ha inculpito, neanche il sangue, niente! Dai! Crita tutti, bravissimi! Confermate quello che ha scritto il Rijekyll. Ho ferito. Guardate che fanno qui anche a fuggi. Fuggi che è lontanissimo, ha matato 90 di vita con una granata. C'è un bug che lo fa andare velocissimo. Lo prendo subito, eh! Fuggi di merda. Adesso provo. Dai, dopo rifaccio il di tale, Pier, sono te. No, ma il fucile di Tachanka, ma perchè in generale il fucile di Tachanka... Quei russi... Quei russi si fortissero, se no. Bisogna prendere Mute, comunque. Ah, io sono andato secondo con zero kill, incredibile. Eh, quelle finestre non ti cogli un po', questo fiuzzo del cavolo. È un glitch di Tachanka, per il quale se monti e smonti. Dalla torretta 6-7 volte ti dà un bonus di velocità, come? Ma non è vero, secondo me. Prova, però... Beh, è il secondo lo sgrip. Ma che è vero. Adesso provo. Però se hai 7 volte montare e smontare la cosa, rompi il panno. Mentre lo fai ti posso rompere il vetro, Lianza? Devi essere veloce. Ma... Una sfida questa. Dai, provo a prendere Tachanka. Allora, mia moto... La moto è mia, eh? Dimmi, dimmi... Siltop. Nuovo Pokémon. Sì, il russo è questo nome. Sì. Lo voglio un Pokémon che si chiama Siltopst. Io lo vorrei che si chiama Goddoni. Ehm... Più o meno. Ehm... Ehm... Adesso cliccio. Tutti clicciano, cliccio anche io. Ah, ecco, ci sei. Ti ho detto, magari sta dormendo. Sono stronti. Sono stronti io. Ah, sì, sì, lo sapevo. Eh già, eh già. Agua. Agua, agua. Anche a te, Marco. Ehm... 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 Ti pesa. Allora, qui, maestro, assolutamente. Ti-ti-ri-ti... Io ormai sono main maestro. Adore, qui te vado. Va bene. I-le... Rublaz. Lo cazzo è rublaz. Ehm... 21 mesi. Mamma mia. Quante brutta sta mappa. Ma a me non dispiace neanche così tanto questa mappa. Ma... Adesso che la sto capendo... All'inizio anche a me non faceva impazzire. Adesso la sto capendo. La peggiore rimane quella del... Ehm... Come si chiama? Quella... Paurosa che non è vero che è paurosa. Casa increstata lì. Sì. Però lì rimane la peggiore secondo me. Ma perché l'abbiamo giocata poco. Soprattutto per chi attacca. Perché... Per chi difende è un po' più facile. Ma chi attacca... Difendite la stanza. Dobbiamo proteggere il contenitore di io. Dobbiamo proteggere il contenitore di io. No. Scavalco! Che botta ho sentito! Sta forzionando il mio orecchio proprio poi. Perché io sono il più... Oh Robertino! Perché siamo in due per la fibra e... Marco gli si romperebbe a volte. Quindi non rischiamo. Alta ultimamente non lo sta facendo più. Però per sicurezza. L'altro tra poco Mark potrà riscrivare. Tranquilo. Questa! 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 Non è rinforzato qua amici. Manca questa. Già mi fantone. C'è altri muscoli che siete calmi. No oggi non ho fatto un po' calma. No oggi sto morendo invece. Ma oggi si. Ma tu Mark non fai testo. Eh che cazzo... Mark non fai testo. Ma oggi si sta veramente bene. Ho il testamento. Mi tocco una trappola a caso. Testamento. 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 Era solo per fartelo prendere. Cosa fai in modo di? C'è già gente qua ma non è possibile! L'ascensore. Ma dai stavo mettendo ancora le trappole. C'è deficiente è ovvio che sono là. Scusa. Sono passati in trenta secondi. Ma non dall'ascensore. Dall'ordoglio. Comunque è normale. Dall'ascensore ce l'ho io. Oh! Da dove? Oh! Bravo cacchia niente. Non posso fermarmi davanti Morelli mai! Eh cazzo ma l'ho scurato dietro. Eh cazzo ma l'ho scurato dietro. Non posso fermarmi davanti Morelli mai! Ma c'è una botola? No! Qui! Ah così! Non è a sinistra Aliezer! Eccolo! Eccolo Aliezer! Volevo scavalcare ma non si può! Per esempio. Sperditi! Posso... Posso un L2W? Credo ci sia anche la sledge. Non l'ho capito tantissimo e non è morto. Sento danni Kelly. fornisco soccorso alleato a terra eccolo l'ho visto di qua concentrabili e un po' e niente vabbè ci provato Morelli e Jackal di qua sblocco di tutti gli operatori no e qua tiè tiè cosa pensate di fare a lei ci sono riusciti non mi ricordo quali operatori a me si era successo una volta erano sbloccati tutti i pom e io forse perché ce li avevo già sbloccati grazie Gianni Fantoni grazie Gianni Fantoni sono concentrato e non ho ringraziato un pene siamo in presidio però basta Filtro mi son rotto vorrei già dire ok B però è un po' stretta sta lampa per usare prendo finca vado di Twitch che non lo prendo e che adesso ce li ho sbloccati tutti anche io agli operatori quindi non so se succedono il bug era per Season Pass no? che si sblocca tutti si no almeno faccio anche la missione per Season Pass ti sblocca quelli nell'anno no quell'ultimo dico non c'era un non c'era un o era la patch spiegelmente era la patch era la patch ah vedi come molto Stranger Things sottofondo però lì non è Stranger Things è sparito perché che è un Stranger Things? hai fatto un errore hai fatto? non so se cosa ho detto scusa questo ti ri ti 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 gli ho detto quello gli ho detto proprio quello davvero? d' rere cittadino stavi cantandola grazie la sig parc c'è sì quali ho detto la sig parc schitica guarda che fallo ne so ma non ce ne sono sono negli uffici ok ho capito ok ho capito dove sono eh mi hanno rotto la... sopra Marco no eh eh come te lo dico adesso è un casino ti ri arrivo e ve li spotto tutti hanno fatto non c'è nessuno qua sono sono qua dietro eccoli ve l'ho spottato uno ecco ok sono di sopra ah li uffici con il piede c'è loro ok trovate ah ma no ok come eh ti avevo nascosto dove ci sono i lingotti eh occhio caviera da me da me da mi sta interrogando no non mi ha interrogato non ti ha interrogato mai beh? dove cazzo è? no miss io ho tolto un bel po' di vita a uno di loro dove era miss? ok l'ho uscito dove era ma che paure eh se morivi anche te moro è un bastardo lo era moro sono qua sono qua moro mamma mamma ma dai orelli marco buona che sfortuna li ho che cazzo ma c'è uno che gli ho tolto già 30 di vita 30 o 40 di vita col drone è andato di sfiga che mi ha distratturato le canne era dentro prima l'altro a sinistra eh eh no eri no ah che cazzo neanche il tempo di nascondimi dietro dal muro che mi ha shottato che balle vediamo un po' il suo colpo da un maestro com'è? beh da fa culo e da fa culo vabbè in testa era ci sta a testa se non mi cavo in testa non moriva era un colpo che mi è arrivato ah cazzo di fastidio prendo gli alibi stavolta vedo vedo nooo prendo lesione prendo io ho uno spato prendo eccio invece vedo eccio invece no rook sono io che mi spato subito perchè mi sembrava un pezzo di edificio mi sembrava perchè è su quello dei muri quel maledetto si a me piace giocare a rainbow è bello a me piace un sacco a te era un po' che non mi... un gioco online così tanto non so ho fatto su league of legend tanti anni fa ma non mi piaceva da giocare mi rabbiamo e basta orca troia eh affanculo c'è un drone qui mancano due pareti si bastardo ha rotto il mio coso ma scusa non ho preso il mio coso ho preso la gamba del mio... la gamba l'ho rotto scusa che vuol dire sta cosa ah la metto qua ampio la porta vaffanculo no ma lol è dopo del piantino ma che palle che mi mettete i cazzi qui eh ma rainbow come ogni gioco della ubisoft è un bellissimo... non posso passare perché nessun discuti ma... ehi ehi chi è che è passato qua manu c'era iq ci sono qui la gente qui dove vuoi identificare i modelli comunque qua mi ha rotto mi ha rotto la torretta eh spirituale vengo andata in mano aspetta l'ho stordita iq è qui nell'angolino eh marco sta lanciando granate però e non posso muovermi io ah però c'ho le munizioni esaurississime sempre io mi sono mosso lo stesso frega niente è sempre qui e niente ma ha rotto un drone ma si com'ha fatto ti ha sparato eh ho piccato io aspetta eh non è più lì falla di qua la partita avevo fatto i c***i si sono in due qua vabbè ma ha disinteratto di un colpo solo praticamente mi hanno rotto anche questi eh vabbè lo sapevo io porca p*****a però scusa perchè ero proprio un colpo alla gamba o alla spada mi trovano 60 di vita e invece 20 colpi mi trovano neanche metà vita p*****a tutte cose ogni volta c***a fastidiosi che imbarazzo ma lì siamo lì comunque che non a me che non c'è il 3 io non l'ho visto esatto non hai fatto mica la kill della vittoria poi 3 non è vero 2 2 sicuro sicuramente uno io lo rubi a espressino eh quello l'hai visto quello l'hai visto l'ho ucciso tu perchè mi ha appeso prima lui è vero se vuol dire perchè è breve che domanda di c***o è? che domanda di c***o è? l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato perchè sono dove erano prima eri boss dovrebbero fare tra console ma sony non vuole giocare con quelli microsoft quindi... non da è vero no tranne con quelli pc con quelli pc vogliono giocare tutti perchè stanno diventando tantini adesso non ha livelli console hanno sfondato la bottola si non so per quello motivo tu sfondato di attagherla ma infatti ma non so perchè di la lo che ti... vabbè andiamo trochiamoci di dietro andiamo correre correre ragazzi ragazzi correre correre questa è di la? che imbarazzo vabbè vediamo se c'è una c***o in giro ah è scamato ehhh che mira là dietro ah è qui c'è la m***a ma era qui tutto il tempo questa befana ci ho messo per una tirata laggiù non è possibile che ha resistito così tanto e in due l'avete rompita comunque eh no io no eh no io e Marlo l'abbiamo crivellata tutte e due non riesco a... un po' di l'altra ma quella di m***a occhio pieno fabbiet no se era niente dei the forest no riprendiamo martedì probabilmente è stato manca poco alla fine che cavolo si faceva questo qua? un paio di live una addirittura è finito bah che in giro sono scusa c'è la rucca da me ma qui c'è c***o ah ci sono qui però non hanno coperto il muro scusa jether coprimi lì coprimi lì coprimi lì jether eh? ma non mi c***o ma non hai posato il muro? no ma mi stai coprendo jether ma c'è c***o al di là lo si sente quando rompo eh ho sentito eh? nooo un nuovo caricatore nooo ti crazy? un attimo che ti sparano direttamente nel buco eh fatti dentro all'altro io vado daoo esprit occhio marco che sei tra su poi c'è mira direttamente noi eh nella stanza intanto è libera mi sembra poi c'è mira giù in fondo vado a caricatore visto l'hanno rotto mira vabbè vabbè eh potrò aspettarmelo eh però mi aspettavo che mi piace così di denti così porca vacca eh eh niente eh ah proprio ah proprio più o meno non l'ho proprio colpito buona eh è sempre mira lì eh non l'ho colpita neanche io non l'ho colpita proprio neanche io eh io eri già in campanta lì eh mi hai detto usarla effettivamente vabbè yeah fox in the hole fox in the hole due mesi grazie mille per essere tornato grazie mille è bello eh si la volpe provo 2x ho svegliato di poverina dentro il buco che c***o vabbè nota c'è anche no però nel randecisimo no prendo cavera ma te jager non è così male da usare no jager scusate ho bandit non è così male da usare faccio lesion potrei anche provarlo è filthy frank ma da fuck è filthy frank non credo sia più guardabile ormai l'ho rotto il drone ma fa ancora video infatti non lo so ma anche quel che è veramente un eh tra l'altro ho sbagliato non sono vicino freddin sto finendo chak no sono finita stagione e non mi ricordavo più ieri ho finito la puntata e c'era Stan Lee non mi ricordavo più non mi ricordavo anche io c'era un agente della CIA non c'erano 5 secondi ehi c'è anche freddi 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 quello cinese eh mi manca un po' mancano 5 puntate l'ho rifinita tutto tiè bobrifu 77 ah grazie mille prima scrive l'ho visto grazie mille gentilissimo è bobrifu o bobrifu o bobrifu adesso facci sapere adesso muove il mouse eh hanno spotto dentro il mio posto attento eh me l'ha rotto pollo stordita dov'è sono rimasti ma scusate ma erano in trailer dove si può vedere in streaming è su infiniti ho sentito i banna eh marco è qua dov'è sta sfondando la parete proprio dove sono io è major zack mi sta vedendo la foto probabilmente arrivo arrivo bobrifu ok bobrifu me ne ricorderò ah è sopra lassù sopra cazze mille bobrifu si è lì comunque sei su infiniti ciac è lì hai di sopra sopra lì? si vai diventare lex non uscite non uscite non andare non andare è sopra sono lei? si si che androcchia mi sto saltellando mi sto saltellando con le tante continuo a distrarlo un'app non riesco mafamiappolo bravo morelli orchio miserio mi saltellavo davanti ho visto guarda che sei distratta tantissimo guarda eh orchio miseria che svedimento però mi dava sofferto non è vero e beh tra due tra due bravo se hai i vodafone ogni tanto danno anche mesi di infiniti gratis quindi in caso ma infiniti adesso vale la pena secondo me secondo me vale più di netflix attualmente dipende cosa ti interessa beh si ovvio dipende cosa ti interessa dipende sempre cosa ti interessa gli infiniti mettono più roba Netflix tolgono e basta ultimamente e ma a volte a Netflix li tolgono poi li rinnovano dopo un mesetto e a me stavo pensando proprio di cambiare anche perché poi infiniti costa anche meno e infiniti mi son visto per strums non c'è nessuno dei due va a fanculo no però su infiniti c'è vabbè c'è Big Ben Theory c'è mh c'è O.C. c'è Chuck c'è Netflix ci sono tutte le serie CW ci sono un sacco di serie Netflix c'è Mother Family Mother Family su Netflix no poi su infiniti mettono spesso film no poi su infiniti mettono spesso film anche a television c'ha cose c'ha mh The Magician che è una cosa no più l'altro su infiniti mettono spesso film a 300 tra l'altro oggi il l'epi friday di vodafone ti regala un 40% di sconto su su della gamma durex oggi? si ma infatti sera è ottimo infiniti comunque io spero che rimettano ancora qualche volta vanno dato infiniti spero che lo rimetto eh infatti io mi son visto Dunkirk l'altro giorno su infiniti che comunque non è che si è uscito anche la Justice League che è vero male sono usciti c'è Dunkirk è uscito abbastanza recentemente c'era già mi si sento che faccio infiniti e non Netflix eh boh a me per i miei gusti in questo momento si io ho Amazon Prime, Team Vision, Infinity e Netflix Team Vision me lo regalano con la linea è infiniti a me me lo regalano Vodafone però adesso mi scatete ad esempio a me Team Vision me lo danno con la linea di casa con la fibra della team vabbè vabbè ma Team Vision vabbè quelli a noleggio vabbè ma c'ha Team Vision c'ha un sacco di cose eh c'ha anche solo Conan che non sono tutte le stagioni perché tutte le stagioni non ci sono da nessuna parte ma ce ne sono tante comunque c'è la seconda serie dei Pokémon e per il noleggio per il noleggio c'è anche Chili TV che ogni tanto anche lì vado a fonti regalana beh so che su Infinity puoi noleggiare i film secondo me Naughty V è l'unico che non vale tanto su Infinity c'è tutto Harry Potter e tutto il Signore degli Anelli tanto per dire comunque sono filmoni Netflix non ci sono Jurassic Park Jurassic World non me la regalano purtroppo Amazon Video in realtà non è che Amazon Video in realtà non è che Amazon Video in realtà pagare la metterebbero poi si pagare un sacco di soldi non me la mettono comunque come? neanche se paghi un sacco di soldi per i lavori? ah c'è Mr. Robot o su Infinity? 30.000 euro dovevo pagare? eh si diciamo ma tra i video c'è veramente poca roba ma l'ho stato attuato e spesso sono anche robe solo in inglese però vada eh Amazon Video c'ha un bel po' di roba interessante anche dal punto di vista degli anime tu non fai Amazon Prime per Amazon Video c'è c'è semplicemente il più questo qua io lo faccio per le spedizioni più che altro però c'è anche quello e per il Prime qua su Twitch e per tutto il resto no di certo non lo faccio per Amazon Video magari c'è chi lo fa per Amazon Video? dove sai? beh avrebbe poco senso no vabbè è comunque un comunque un portale che ti fa delle cose alla fine 36 euro all'anno sono 3 euro al mese gli altri costano minimo 6-7 euro al mese comunque troppo soldi per me basta lo tolgo no uno mi sa che dov'ho toglielo prima o poi io ho un adesso ho Netflix, Spotify e Amazon io ho Netflix, Spotify e Netflix però l'ho pagato però Spotify va avanti e più che altro adesso è che non c'è un'applicazione di YouTube Music è vero ma si farebbe quello che altrimenti ma devi pagare quello eh comunque eh si però lo pagherei al posto di Spotify e non ho più la pubblicità su YouTube vero almeno è quello si tutto Amazon Video da qualcosa in più perché appare e che poi molendo uno si può fare anche solo YouTube Music che costa 9,99€ come Spotify però provati chi è? ah inizio io avevo fatto più di 3 mesi di Spotify e poi tipo 3 euro io la prima volta 99 c'è un peso scusate non sono 12,99€ al mese per... ecco 12... si 12,99€ sono YouTube Music che è 12,99€ non era 9,99€ e 12,99€ il pacchetto completo scusate 5 secondi io non lo pago proprio attualmente anche solo perché c'è l'applicazione comoda da telefono uso Spotify no ma si sicuramente per quello temeranno quello che ho detto anche io Spotify è comodissimo Nautv fa c***are Nautv io mi L'ho fatto per risfatto Remasterchef E però mi c'ulava soldi più Spesso e volentieri Vado Morelli Chi era l'ho visto Ma c'era una alla finestra Che avevi? Alla finestra Qui a destra Ah lì Camello Ma che cazzo loro l'hanno aumentato dai Rumaur L'ho fregata Stronza Mi hai riso a maledetto Vieni Marco Ecco ho fatto un rumore L'hai uscita e l'ho ucciso Che paura c'erano in cosa c'era? Eh secondo qua il bagno Ho sbagliato Paura Che paura è come di anime più volte C'è GTO? C'è GTO su un video Cazzo eh voglio vedermelo E' vero che c'è GTO Oh nooo Ahia ma hanno sparato da dove? Non lo so però Dalle scale Eh ma intanto non c'era nessuno vicino a me qui Tra lì e da me moro Dalle scale sopra? No no dall'altra parte Aspetta Comunque c'è uno su Stati attenti Sei scemo ma ci sono qua io C'è pirla Stai a vedere un colpo Eh 16 euro al mese Solo per togliere la posta Con culo Però Non lo uso così tanto YouTube Per 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 pagare 16 euro al mese E' di Manu eh E' più che altro che YouTube music costa 13 euro Da dove? Dove scusa? Ma non c'è nessuno scusa Lì era il cadavere di Miedo Eh non so Pensavo fosse quello sdaiato per terra Non c'è nessuno E' passato davanti E' passato davanti E' passato davanti un paio di volte Io non ho visto questa cosa qua E' stava volendo dritto davanti a me Ma io l'ho visto da te E' cacchio Ah Faro se in realtà YouTube music potrebbe vincere a mani basse con Spotify Perché praticamente YouTube ha tutto Gli basterebbe solo Beh no per esempio gli indie ce li ha Cioè gli indie dovrebbero mettere le cose su YouTube Perchè per le cose indie non c'ha niente YouTube O canzoni un po' più datate non c'ha niente Come no? Io non li trovo mai determinate canzoni su YouTube di alcuni indie italiani Non è possibile Indie o simili indie Ah forse gli indie italiani vabbè Indie italiani forse no Per dirti C'è un ascolto anche solo musica italiana Dovrebbero tutti gli artisti O gli interi album Gli interi album su YouTube non ce li hai tutti Amore c'è artisti che conosco io italiani che hanno Spotify con tutte le canzoni Quale artista ha tutto l'album su YouTube? Eh si Che su YouTube ti mettono magari il video ufficiale del singolo O due canzoni dell'album E' beh si esatto E' una cosa così strana Invece su Spotify mettono proprio tutto l'album Magari in futuro lo faranno e gli darà la pena In un altro modo che da Spotify hanno guadono Ho sentito che Ho sentito che C'è un anno anche Decenti insomma Quei 300 euro al mese per un album solo con Quattro mila di Di persone su YouTube E' guadono 20 euro se va bene E può essere Beh non è vero Perché le canzoni comunque vanno suddiviso al tantissimo Ha poco senso Che facciano tutte le canzoni su YouTube per loro Si Gli artisti ma guaditi più un po' Gli artisti Ma come è possibile Se gli artisti iniziassero a mettere cose su YouTube Ma come è possibile Lo vedo Tipo gli album e queste cose qua Diventerà più interessanti Ma che cazzo Però finchè gli album non me li mettono Mi mettono un singolo dell'album e basta E fanno quelle robe lì Non posso preferirlo a Spotify Ah ma Spotify Poi Vedremo in futuro come volteranno Da sopra Tanto gente sopra di noise Va bene In testa Dai! Non puoi dimmi che non andiamo in testa Guarda che sputti di vita c'ha Vai che gare vai Asci di merda Sono uno sputti di vita amore Infatti Sono fuori dalla finestra Manu che paura Sono fissato completamente Era in testa quello Era l'ultimo colpo Eh Blackbird Perchè su Spotify ha senso mettete gli album su YouTube no? Eh no Scusa me Oh l'ha trivellato morto No no Mi si è alzata la mira Sopra la testa A destra sta E' la finestra fuori a destra era C'è Blackbird Eh ma non è la stanza da destra Peccato Ho anche la telecamera Li potremmo toccare C'è un buco per destra eh C'è un buco da Tra questa stanza e l'altra Si può entrare E' infatti dentro è entrato Oddio Eh ma infatti Ritz e per quello Spotify è molto più sistemato per adesso C'è a vedere in futuro come se la gestiscono Beh dovete dare le parole a pistola da Paman Ti ammazzavi secondo me Ma mi sa era già la secondaria quella lì Ah sì? Eh non lo so, era molto veloce L'hanno visto Esatto, c'era Credo che abbiamo andato bene prima la riprendo Sì e no È indifendibile, è un po' un casino però No lì è andato fastidio Che porca vacca è rimasta E beh ma Cato Pleba In realtà non è vero, cioè dipende Se sei fan di un cantante Anche una ragazzina che segue quello che è uscito da amici Vuole sentirsi l'album Ma Cato Pleba Anche solo per i singoli Spotify posso mettere una playlist Un più sigletone su Spotify Che per dire io ho una playlist E tutte le cantine mi piacciono Ma non sono album interi Per quanto tempo ascolta anche gli album Ma secondo me non è neanche vero Che la gente non ascolta più gli album Dipend Ma la ragazzina che ha quello che è uscito da X-Facto, non puoi ascoltarla come vuoi te, è un po' casuale Puoi saltare solo le prime... 3, tipo 3 Eh sì, è il massimo Vabbè, ma chi se ne frega, se è la mia playlist... Ho 200 playlist, infatti è casuale, non lo voglio io Eh vabbè, se l'ho messa nella playlist è perchè la voglio ascoltare Sì, ma è un po' casuale Non ho bisogno di saltarla Comunque A me piace questo, è tutto il caso Non puoi schippare, cioè non puoi schippare la mia playlist Se fosse solo casuale e puoi schippare quanto vuoi, vabbè, diciamo Ma per quello ti dico che ancora li ascoltano gli album la gente, anche la ragazzina, il ragazzino Poi è chiaro che... Emanuele Per ogni cosa non è che per tutto è uguale Io ho visto che tutti quanti la maggior parte facevano... Emanuele 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 Inoltre Emanuele la metà vita più o meno bisogna vedere come sarà in futuro comunque per adesso non vale la pena vale pena se ti piace ascoltarti no con l'elogramma c'è anche un altro a destra di l'elogramma non ti spaventare se lo vedo dove sia? dove era Marco? a destra c'è un altro elogramma ma dove era lei? e lei è dietro i muretti lì in fondo a sinistra cazzo cazzo però c'è la troppo di era c'era porta puttana ho letto una notizia brutta per poche mongo quanto mi ha fatto mangiare chi dice? ehi che se le vi sta arrivando vedo niente non vedevo se le vi sta arrivando l'ho detto che è verso la fine del gofest non sanno ancora se sostituisce il mio o no spero di no adesso che lo voglio prendere cos'è che è? non ho capito sta arrivando Celebi potrebbe sostituirlo l'avevo detto che era Celebi ma si che è Celebi ma non si sa ancora se sostituisce o no io vorrei capire con Arianna e poi ci sono Giracchi se mi dicono arriva a dicembre io entro dicembre dovrei farcela si entro dicembre ce la fai se mi dicono arriva ad agosto se mi dicono arriva ad agosto e dipende cioè si entro dicembre perché c'è Halloween e posso catturare i Pokémon Spettro se no no vabbè Marco ce l'ho fatto anche io per cosa ce la fai comunque eh ma sono quattro giorni che non sto a una niente da me me ne mancavano 5 da una settimana poi li ho trovati tutti un giorno e mezzo la sera ci provo ma se è attiva la missione magari ti aumenta il drop se la sera esci è meglio eh si se esci proprio di casa nel weekend lo posso fare nel weekend lo posso fare ma durante la settimana non uscire la sera a volte si è ancora possibile prendere Mew e dopo si porta a prendere Selebi eh ma sono teorie eh in teoria perché così sarebbe giusto una cosa sensata uno finisce di prendere Mew va avanti con la missione c'è la seconda parte eh grazie perché da vero se no uno non prenderà mai più Mew eh secondo me è anche la cosa più giusta finisci a trovare ditto devi continuare a prendere ogni singolo poco di merda che trovi in giro ma Ditto l'ho trovato subito io anche l'ho trovato subito Ditto ma secondo me quando tu hai attiva la missione ti aumenta la possibilità di trovarla ma vabbè è che sotto casa lì dove siamo dove ero lì e spawnano sempre ne ho trovati altri due poi non spawna nessun pokemon che può diventarlo non dovrebbe sottidire non dovrebbe prenderlo ok eh che è la cosa secondo me più sensata la cosa più giusta così uno li può avere tutte e due quando vuole se va sotto vado tu sei sotto eh sotto sotto di me dai speriamo che sia così sentite sti bot di merda ma io per adesso voglio fare Geridos rosso poi ho fatto quello ma qua 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 dieci shiny palle no ma è inutile farla evolvere al dish sei forse un coglione tutti sotto tutti sotto tutti sotto andiamo sotto andiamo sotto eh non so dove è di qua si ce piano eh piano piano c'è uno qua no? pura ma ho proprio il concetto di cristallone però nelle scale stanno salendo alcuni stanno salendo alcuni beh io sto con la mappa non c'ho nessuno non c'ho più io ne ho uccisi un sacco granata granata no io non ho granata ho lanciato una granata nei miei piedi non ne ho non ne ho non ne ho non ne ho vuoi però lanci adesso vuoi però lanci adesso stagio è qui ah sono di voi sbagliato sono morto avevo anche la vita aumentata aumentata andiamo recuperate il pack andiamo di qua dalla parte opposta cazzo non andiamo di qua allora vabbè potete fare comunque il giro intorno sicuramente avete meno gente non hai detto perchè arrivano da fuori teoricamente andiamo alla finestra fuori sopra e poi ci arrampichiamo ma qui qui dietro c'è la finestra qua per arrampicarsi sopra vabbè ma c'è la scale eh ho capito ma qui ti arrampichi fino al tetto le scale non arrivi anche qua c'è la finestra poi c'è la mano non c'è la dietro no ah è mano ma che ne è alla finestra ma che ne e alla finestra ma lui vieni qua sono a secco come siete operazioni speciali eh sì ah ok bisogna dimettare il 4x15 un tiro un tiro un tiro il tempo da sotto il tempo da sotto il tempo da sotto Ho sbagliato Arrivo eh Mano è morto Cazzo dove siete? Anche io muoio Stavo arrivando Dove sono? Sono tutti qua Adio Aaaaaah E non morire Ma scusa Cheater hacker Botto C'è già qualcosa sui prossimi operatori di Rainbow Si Si sapeva la nazionalità ma non si sapeva cosa Non funziona la colonna, è invisibile Riproviamola Adesso voglio vedere, ho preso il culo Ho in testa Hai un bot tantissimo Riproviamola Si, dicono che E poi da lì dovrebbe iniziare Ma come fa? Vabbè facciamo in quattro Io spero veramente che non sostituisca Anche perchè Se hanno fatto come quelle altre Si sostituiscono Eh, però alla fine dice Ci vediamo per una nuova missione No, quelle le altre Quelle settimanali Quelli perchè sono Però dico se fanno come quelle settimanali Anche quelle E' un po' diverso Scusa Eh, per forza questa qui la dovrebbe resettare Perchè parla di Mew nel mentre Eh, quindi secondo me questa qua Te la fa andare avanti Quando la finisci poi inizi Quella di CLB Giuramente Non c'è Fanculo, sono tantissime missioni di fila difficilissime Eh, perchè uno arriva magari alla settima E poi non dirà nulla Uno si incazza anche Fanculo, mi incazza anche Sono due missioni, sono due missioni lungo e difficili Non so, mi succede il cacchio questi manali Tanto per se le vi sarà da fare evolvere la balenotro Allora, come cazzo via O l'albero con la nuvola, come si chiama? Che quella lì non ne ho No, quello lì è della terza, mi sa L'uablo è terza Ma questo è da dove è cicciato fuori Dici addirittura di switchare, cioè di farla in contemporanea a Darkman Ah ok, magari anche da farla in contemporanea In contemporanea sono i nodi Gli danno troppa roba, senti, in contemporanea No, infatti Anche voi metti i terzi hanno detto Eh? Anche voi metti i terzi Allora di seconda cosa c'è che costa il 400 Fibas è di terza Fibas è di terza, si Nascondetemi adesso Eh, io rubo l'ostaggio e lo porto via Vai Venite su con me qua Adesso è una parte opposta, aspetta vabbè vado dall'altra parte Eh no, infatti non c'è detto, no? Sto bocciando te mi sentito Non c'era nessuno della seconda che è una generazione che costa 400 Quanta c'è? Non c'è tantissimo eh Non uscivono uscire Morelli, ragazzi a terra Vieni qua Non c'è nulla di 400 dalla seconda Recuperatelo No, no Ovvio che non le mettete via Arrivano Sparo Ebbafanculo Marco Arrivati All'ostaggio siamo Veloci Arriva, arriva Ma perché tu sei ancora sotto poi? Non riuscivo a salire Enti io muoio Perché ci guarda sto qua? Tu vuoi scusi? Eh basta Eh basta Mi sono ritrovato due stanze con la gente Non uscire Eh sì, si guadagnano dei punti Però Bob Riffo Bob Riffo Ci sono anche delle missioni da fare coi botte Però anche Danno pochi punti ovviamente Sono contro i botte Ma buono dai Quindi niente dai Quindi niente dai Ma ci sarà una... Comunque ci sarà una missione... Non c'è un po' comune di seconda generazione difficile da prendere No, hanno già detto Ah difficili... Da dire O particolari Magari cambiano completamente Tipo non so I mice devolvano uno con le pietre Tipo la pietra solare Ah no Ma sarebbe... È troppo a culo Cioè come cazzo fa a trovare Eh come ditto Scusate Ma ditto è meno a culo E insomma È molto più cazzo di tutta Perché poi I pokestop te ne da uno Ogni duecento che ne prendi Vabbè Magari poi non ti da quello che ti serve Lo facciamo stasera Non lo so Ma non lo so Vedremo Ancora non ho... Non ho idea Grazie mille Grazie mille Grazie mille adesso Grazie a tutti i belli Ciao belli Buona pranza Ashtase buon plato